Torre Guaceto è stata premiata come la migliore area protetta italiana in termini di accessibilità per le persone con disabilità. Il riconoscimento è stato conferito con il premio Parco Inclusivo 2024 da Fiaba Onlus e Federparchi. Questo prestigioso premio è stato assegnato nell'ambito del concorso fotografico obiettivo Terra, promosso dalla Fondazione Univerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus. La motivazione per l'assegnazione del premio sottolinea l'impegno dell'ente di mettere la persona al centro senza discriminare la sua condizione. Nonostante le sfide, l'area protetta di Torre Guaceto si è distinta per la sua bellezza e l'utilizzo totale da parte di tutte le persone. Tuttavia l'accessibilità rimane ancora un miraggio in molte altre aree marine con barriere che impediscono alle persone con disabilità di godere appieno di questi luoghi. La spiaggia di Punta Penna Grossa è un esempio di queste sfide. Il premio è stato consegnato al presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocchi Malatesta, da Stefano Maiandi, presidente di Fiaba Onlus Malatesta, ha dichiarato che l'assegnazione del premio è motivo di grande orgoglio e commozione. Questo riconoscimento premia 20 anni di impegno del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto sia nella tutela dell'area sia nei servizi inclusivi. L'obiettivo è rendere l'area protetta, accessibile a tutti senza discriminazioni. L'inclusività e il loro mantra e il lido e i servizi gratuiti per la fruizione egalitaria del mare hanno contribuito a conquistare questo prestigioso premio. Il presidente Malatesta ha sottolineato anche la necessità di continuare a migliorare i servizi offerti. Durante la consegna del premio erano presenti anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e la presidente di Enitta Alessandra Priante. Numerosi rappresentanti delle istituzioni statali e militari hanno partecipato all'evento romano che ha radunato chi si impegna quotidianamente per proteggere l'ambiente e la comunità. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso Palazzo Valentini a Roma in occasione della giornata mondiale della terra, simbolo dell'importanza della conversione ecologica e della sostenibilità ambientale, energetica e sociale delle attività umane.